La terrazza di modi Sì, e non faccio la finta tonta Ma sta scherzando, vero? Lei lo chiama uno scherzo, ricattare la gente Ma io non ho ricattato nessuno Ah sì? Allora chiami il 4543 Risponde l'ingegner Guido Toselli Pronto? Pronto? Pronto, chi è? Ingegner Toselli? Sì, sono io Guido Ti parla? Sono io Io chi? Anna Puttana valdracca schifosa Io pago, pago i 300 milioni Ma spero solo che un giorno te ne servano altrettanti Per curarti un cancro Puttana! Persuasa? Non ne so niente Sono una puttana È vero Ma lo faccio per mestiere E tre milioni Sono un'occasione rara Sono tanti Ma è tanta Anche la sofferenza e l'omiliazione che si subiscono Ma dedicato Non so nulla Mi credo, glielo giuro Lei non potrà fare a meno di essere coinvolta Quando salterà fuori questa faccenda A meno che È vero